Salam, doostano, mi dobbiamo essere in una chiamata con la gialla 6-28 con la scrittura di Mazzaniello. Le condizioni del sud, la chariote di giugno dell'Italia. Nel 1600 l'Italia meridionale è sotto il dominio del vicere spagnolo che ha aumentato sensibilmente le tasse e le gabelle per favorire l'arricchimento sia della corte di Madrid che dei nobili del Regno di Napoli. Nel popolo. Nel coriore di condizioni misere e esperato del continualmente di tutti prodotti specialmente dei generi alimentari. Nel popolo. e sono stati di farvi di molto e sono stati per il risultato si sono stati per il risultato di risultato di risultato maquadati per quanto riguarda il il panico il tempo e la città il macchinato il filo il filo il filo il città il città il città in questo motivo sono per la superazione loette lo stesso la tre ilettorio è un caramani e questo è un povero che il soggetto è davvero pescivendolo, mahi furosce. E in questo scenario sociale e politico che nel giugno 1620 nasce a Napoli Tommaso Aniello detto Mazzaniello che davvero è molto affatto per Tommaso Aniello e Mazzaniello. Da Francesco, da Malfi e da Antonia Gargano Segue il mestiere del padre e diventa pescivendolo. Talvolta per non pagare la gabella La porta di nascosto il pesce a casa dei mercanti e dei seniori Ma vien espeso e scoperto Bastonato e portato Inprisione di gabellieri Grazie a volte Talvolta è ne qualche volta Bara in che neppardazzo Maliat Rò Mio 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 Per questa ragione incomincia l'audiare nobili e il governo espanolo che costringono il popolo vivere in condizioni poverissime. La rivolta, nel giugno del 1347, l'omento della gabbela sulla frutta offre l'occasione per la della rivolta. Nel giugno del 1347, l'omento della gabbela sulla frutta offre l'occasione per la rivolta. Masaniello è contattato da Don Giulio Genuino, la vera mente della rivolta, che già in precedenza attentato di istigare il popolo contro il malgouverno espanolo. Masaniello è davvero in modo di attraversi di Don Giulio Genuino, che è davvero un po' di attraversi di Don Giulio Genuino, che è davvero un po' di attraversi di Don Giulio Genuino, che è davvero un po' di attraversi di Don Giulio Genuino, che è davvero un po' di attraversi di Don Giulio Genuino, e di attraversi di Don Giulio Genuino. Il vi c'ere ecostretto da Mazzanello e toliere le gabelle e far molte altra concessioni al popolo. In questo giorno, il positio è davvero un po' di attraversi di Don Giulio Genuino, E' una persona molto potente ingradi poter far lecchi. parler ai nobili senza paura di essere arrestato e per questo tipo giocano ma Affiliati è una bella sulla sua condizione che è benissimo per il tempo di diritto e di signoria illustrifici Il suo uso il Mague di Gia Mata da Reggina del Popolo Mitai di dà l'aggabile gino della rughazione andali dana e fredman e la mia conoscenza è stato un grande comando ma tutto qui è stato da rapo ma tutto questo è stato molto tempo molto tempo di inizia e non possono perdere loro privilegi si preparano a resistere alla rivolta eliminare il suo capo aștraf che non possono di sottare a fare a un'azionato privilegi a un'azionato per i'anico per i'anico per i'anico e per i'anico e per i'anico inoltre la mente di mazaniello comincia a dare seni di patsia e allahebaen daherat ze o marz di mazaniello si pensa che foste drogato con un potente alucinogeno la roserpina usato molto dagli spagnoli intorno fichisce che un mutat cede bevasile i'e che ma te hazion o var ghele ghabi besme roserpina che mord destapote caram ghi fte ghele tavo sotto espanee il il 13 luglio mazaniello mentre pronuncia in piazza mercato un discurs su risultati ottenuti sotto il governo comincia a delirare ed portato nel convento della chiesa del carmine del 16 juli mazaniello d'ar halie d'ar hale d'ar meydan mercato d'ar mord nataje به dst omad tحت d'olet خود ش شروع میکنه به hazjian گفتم و برده میشه در سومه ی kili carmine kooie او چیز رو دست رو نمی چی اینجا کش نمی شه ترسط دشمن la suat esta esta kata dal korpo eportata al wichere mentri il korpo e jetta tonel fonie سرش جدا میشه از بدنش و برده میشه نزد نایب بادشاه در حالی که بدنش اداخته میشه در فاز lab poi per timore di tumulti il su korpo e recomposto es pol tonel kia za del carmine و بعدش به خاطر ترس از آشوب ها بدنش دو معتبه احيان میشه و دقیقت دفن میشه در کلیسا carmine dopo čirka un secolo il redi napoli ferdinando quarto ordina la rimocione del corpo della kieza per timore ke il mito di mazani lo posari nashere بعد از حدود یک قرل پادشاه napl ferdinando čaharom دستور میده که بدن mazani lo رو حض بکنن از کلیسا و به خاطر ترس این مسئله که این استوره mazani lo دو معتبه بتونه از نو متولد بشه موسیقی